Sono troppo alti i rischi che corre l'acqua del Gran Sasso a causa delle tante sostanze pericolose utilizzate dai laboratori di fisica nucleare. Ne è convinta l'associazione Forum H2O, che ha inviato un esposto agli enti competenti e alle procure di Teramo e L'Aquila sulla questione delle captazioni acquifere troppo vicine ai laboratori e sul recente episodio di contaminazione di diclorometano, per quanto banale e sotto i limiti previsti dalla legge. Che cosa denunciate? Molte criticità, omissioni inadempienze rispetto alla questione delle captazioni dell'acqua nei laboratori del Gran Sasso. In primo luogo che quelle captazioni sono irregolari, secondo la legge, perché nei laboratori sono stoccate più di 2.000 tonnellate di sostanze pericolose e addirittura vengono state sostanze anche radioattive e questo è vietato dalla legge vicino ai punti di captazione. Quindi o bisogna trasferire alcuni esperimenti, non tutti chiaramente, ma alcuni esperimenti che sono incompatibili con la vulnerabilità del sistema, oppure bisogna chiudere le captazioni. Non c'è una terza via. L'aspetto grave è come è stato gestito anche il problema del diclorometano nell'acqua. Le analisi sono state scarse, poco frequenti e le poche che abbiamo, è vero che sono sotto i limiti di legge per quanto riguarda la potabilità, ma sono superiori ai limiti di legge per quanto riguarda la protezione delle acque sotterranee. Sono limiti purtroppo diversi in base alla legge, ma nessuno ha comunicato, almeno ci risulta, agli enti competenti che lì c'è stata una contaminazione delle acque sotterranee oltre i limiti di legge. Ripeto, dentro però i limiti della potabilità. Intanto la regione Abruzzo fa sapere attraverso l'assessore Giovanni Lolli di voler individuare nuovi punti di captazione delle acque nel Gran Sasso, mentre i laboratori di fisica nucleare annunciano il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e l'acquisto di un nuovo spettometro per la misurazione di fumi nocivi. Ma l'associazione Forum H2O ne fa una questione di principio e chiede di delocalizzare alcuni esperimenti e di ridurre progressivamente la presenza di sostanze tossiche all'interno della montagna. Ipotizza anche scenari apocalittici, che sembrano però un po' fantascienza.